Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il panorama calcistico italiano è avvolto dal lutto in seguito alla scomparsa di Gigi Riva. Avvenuta questa sera 22 gennaio 2024 presso il reparto di cardiologia dell'ospedale San Michele di Cagliari. L'ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Italiana era stato ricoverato il giorno precedente a causa di un infarto che lo aveva colpito sabato mentre si trovava nella sua abitazione. Inizialmente, le condizioni di Riva non sembravano critiche, tanto che nel pomeriggio era stato rilasciato un bollettino medico che descriveva il paziente come sereno e in condizioni stabili, annunciando anche accertamenti clinici futuri. Tuttavia, poco dopo le 19.30, si è verificato un nuovo malore, seguito dalla tragica notizia del suo decesso. Gigi Riva, presidente onorario del Cagliari dal 2019, aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre. Dopo il suo addio al calcio, aveva scelto di vivere nel capoluogo sardo, risiedendo in un appartamento nel cuore del centro cittadino. La sua figura rimarrà indelebile nel ricordo di tutti gli appassionati di calcio, mentre la comunità sportiva piange la perdita di un'icona del calcio italiano.